Buonasera a tutti, ben ritrovati al Tg7 Basilicata. Apriamo questa edizione partendo da una notizia di cronaca. Una vasta operazione antidroga si è svolta tra Basilicata e Puglia ed è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza. 34 le persone indagate, di cui 28 arresti eseguiti dai carabinieri di Matera. Le accuse sono di associazione per delinquere volta al traffico illecito di sostanze stupefacenti tra Matera e Altamura. Le indagini hanno avuto inizio seguendo alcuni tossicodipendenti materani che acquistavano rilevanti quantitativi di stupefacenti ad Altamura attraverso una rete stabile organizzata di pusher radicata nella città dei Sassi che gestiva le piazze di spaccio. Una gara anomala per assegnare una cava a vietri di potenza. Il procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio, ha emesso cinque misure cautelari per un consigliere comunale di vietri di potenza e è stato disposto anche il divieto di dimora nel paese. Per sei mesi tre uomini di accettura non potranno entrare nei bar del paese perché protagonisti nell'ottobre scorso di una violenta lite legata al trasporto del maggio, l'albero dei festeggiamenti del santo patrono. Quel giorno due fratelli di 44 e 40 anni aggredirono un uomo di 32 anni colpendolo con un bicchiere al viso. Più tardi l'uomo, vittima di questa aggressione, entrò nel palazzo di uno dei due fratelli e lo colpì più volte con una mazza di ferro. Entrambi dovettero farsi medicare al pronto soccorso. I provvedimenti sono stati emessi dal questore di Matera. Vediamo insieme il meteo per domani. Avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Per questa sera è davvero tutto. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione. L'appuntamento è domani. Arrivederci.